Stai cercando il tuo ufficio in affitto, magari in centro a Faenza, in un bel contesto e pure al piano terra e con il posto auto ovviamente per poter parcheggiare senza problemi? Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo ufficio in affitto. Siamo nella corte interna di Palazzo Ferniani, in una delle location più esclusive di Faenza e qui si trova il posto auto abbinato all'ufficio. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!